Guanti, sacchetto e paletta, tanta volontà e il desiderio di rendere un'aria verde più a misura di bambino e più bella e pulita agli occhi della comunità. Missione studiata a tavolino e missione compiuta, quella messa in campo nella mattinata dagli studenti delle scuole comunali della Piana Lucchese, che hanno aderito alla ventesima edizione di Puliamo il Mondo. La più grande iniziativa di volontariato ambientale è organizzata da Lega Ambiente con la collaborazione di Anci e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di UPI. Quelli che vedete nelle immagini sono gli alunni delle scuole di Lucca. Per loro l'obiettivo era pulire da cartaccio, bottiglie e talvolta anche da rifiuti ingombranti le aree pubbliche poste tra Via Matteotti e Via Naudi nel quartiere di Sant'Anna. E così con tutto il kit a disposizione si sono messi al lavoro, raccogliendo tutto ciò che trovavano e che non faceva parte del giusto decoro urbano, per poi gettarlo negli appositi bidoni della raccolta differenziata. Alle scuole che hanno aderito all'iniziativa, che ha come fine principale quello di voler educare giovani fin da piccoli ad avere rispetto per l'ambiente, è stato distribuito un buono per ricevere materiale di adesione alle classi per l'ambiente, in modo da poter proseguire durante tutto l'anno scolastico l'impegno di Puliamo il Mondo. Grazie.